Dimissioni inaspettate e comunicate via Facebook in un lungo post che la dice lunga sulla situazione locale. Il giovane sindaco di Valenzano in provincia di Bari Gianpaolo Romanazzi ha annunciato le dimissioni con una dichiarazione via social che parla di fratture create si tra le forze politiche che hanno impedito una svolta vera e talvolta ciò ha rallentato il lavoro di questi mesi. Gli ultimi avvenimenti, scrive, non hanno potuto che farmi prendere atto della mancanza delle condizioni politiche necessarie a consentirmi di continuare. Romanazzi era stato eletto nel novembre del 2019 dopo un commissariamento del comune di Valenzano sciolto nel 2017 per sospette infiltrazioni mafiose. In una nota il neo eletto consigliere regionale Domenico De Santis del PD ha espresso solidarietà umana e politica a Romanazzi evidenziando che Valenzano si stava risollevando dopo un lungo periodo di commissariamento e stava riguadagnando la sua dignità. Spiace assistere alla brusca interruzione di questo percorso. Mi auguro che ci possano essere le condizioni per la ripresa di un cammino collettivo. Ci sono problemi ben più importanti e urgenti degli equilibri in giunta. I cittadini aspettano e meritano risposte.